Un ringraziamento a tutta la squadra che organizza e che dedica molto tempo all'organizzazione sia della pallannuoto, del basket e del nuoto. Noi siamo una polisportiva che ha più discipline e quindi ormai sono rimaste queste, prima ne avevamo altre, però molti ragazzi sono dietro a tutta un'attività che porta via tantissimo tempo. Vorrei ringraziare veramente con un applauso tutti i responsabili, a partire dal basket e rondelli Marco, alla pallannuoto Tiziano e Soffi Francesco, al nuoto Leonardo Meoni, Giusi Gabriele, Giusi Gabriele, Stellandi Niccolò, e ci fa il ciclo ragazzi, il ciclo fa tutto lui, veramente. A Bonalli Niccolò che è un'ottima squadra, io sono veramente contento di questo, la forza di questa squadra è sicuramente dovuta a questa grossa organizzazione, non c'è una persona sola dietro a tutta l'organizzazione, ma una squadra che funziona veramente bene. Complimenti a tutti, grazie e un grandissimo applauso a tutti quanti. Come mi fa molto piacere la presenza del Presidente Provinciale di Prato, della UISP, ricordo a tutti quanti che la nostra società è nata grazie al nostro comitato di Prato, e quindi ringrazio l'Arianna Nerini della presenza. Grazie, grazie veramente di essere prevenuta. Michela Milingon, la ringrazio di essere venuta con noi a questa forza. Grazie. Grazie. Grazie.